Tempo di decisioni ma anche di attesa per il pluricampione italiano Paolo Andreucci, 11 titoli tricolore in bacheca e un futuro ancora da scrivere. Il 2019 è dietro l'angolo, anzi è già adesso, ma ancora non si capisce come e dove correrà il pilota Garfagnino. No, per il momento no, stiamo aspettando i programmi di Peugeot e Pirelli, siamo in attesa. Ancora Peugeot, ancora Cir, chissà. Intanto è tempo anche di Academy al ciocco. Paolo Andreucci, al pari della sua compagna di vite e di abitacolo, Anna Andreussi, fa infatti parte dello staff degli istruttori federali. Certamente, dall'alto della sua lunga esperienza, anche una volta appeso il casco al chiodo, potrà dare un contributo importante alla crescita del realismo italiano e dei giovani piloti. Al microfono di Abramo Rossi si confessa in questi 50 secondi e spiccioli sugli argomenti suddetti. Ma è un distaccamento della scuola federale, che è chiaramente dell'ACI, e chi vuole fare i corsi, chi vuole migliorare alla guida, per i passaggi di licenza. Per cui è un'opportunità che la federazione ha dato a chi vuole fare questi centri federali e al ciocco ha preso l'occasione. Noi, io e Anna collaboriamo perché siamo istruttori federali, per cui insomma chi vuole venire a fare i corsi è una buona opportunità per migliorare il livello di guida. Intanto, venerdì sera alle 19.30 al ciocco, ci sarà il taglio del nastro della bella mostra storica sul rally, allestita in occasione del 27esimo rally del ciocchetto, e sarà illustrata anche la nuova Academy, che sorgerà sul Colle di San Quirico.